12 marzo Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua Atti 16 31 Le possibili scuse Chi dice ad esempio Io non ho forze Provi a leggere Romani 5 e 6 Perché mentre eravamo senza forza Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi Proprio perché non abbiamo forza Abbiamo bisogno di Cristo Egli è venuto per dare forza ai deboli Qualche altro potrebbe dire Io non riesco a vedere alcunché Ebbene, Cristo dice Io sono la luce del mondo Chi mi segue non camminerà nelle tenebre Giovanni 8, 12 Egli venne non soltanto per dare luce ed essere la luce Ma anche per aprire gli occhi ai ciechi Isaia 42, 7 Un'altra ancora dirà Io non penso che un uomo possa essere salvato istantaneamente Ebbene, possiamo testimoniare che non è così Il salario del peccato è la morte Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù Nostro Signore Romani 6, 23 Io non penso che un uomo Dove non se faccio Lo spero Io non penso che un uomo